Il fitness è particolarmente importante perché paddleness nasce proprio dalla volontà di voler affiancare il fitness, quindi i principi educativi relativi al warm up, al riscaldamento e poi al defaticamento e allo stretching che devono essere complementari al paddle e a coloro che quindi entrano in un campo da paddle. Ha preso il via alla mostra d'oltre mare il lungo weekend dedicato al paddle e al fitness. Da oggi e fino a domenica, 24 novembre, Napoli diventa capitale internazionale dello sport con la fiera che per la prima volta in Italia unisce paddle e fitness e che porta in città giocatori e giocatrici da 15 paesi del mondo pronti a sfidarsi nel torneo FIP Rise Open femminile e maschile. È la prima volta che FIP Rise viene a Napoli, un torneo con Montepremi organizzato da noi e supportato da MCV che metterà in palio questo Montepremi in danaro ed è un torneo dove saranno presenti tantissimi campioni di paddle che per fortuna sono venuti veramente da ogni luogo. Siamo davvero contenti e orgogliosi di poter ospitare questo grande evento che è sicuramente un evento sportivo ma è anche un evento legato alla salute, alla qualità del benessere e quindi alla consapevolezza di quanto lo sport incida sulla qualità della vita di ognuno di noi. L'evento che si avvale del patrocinio del comune rientra tra le iniziative di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e si rivolge ad imprenditori, sportivi, professionisti, appassionati, amatori e curiosi. Non poteva mancare il paddle, il fitness sicuramente. Non ci piace prediligere soltanto uno sport e penso che in questi anni lo abbiamo dimostrato dando i nostri impianti, aprendo tutte le nostre strutture a favore e in favore di tutte le iniziative sportive dei più disparati genere, anche dei cosiddetti sport minori che a me non piace definire tali perché sono poi quelli che fanno la differenza soprattutto con i nostri ragazzi. Numerose le attività promosse durante la tre giorni con campi da paddle e da pickleball allestiti all'interno dei padiglioni, aree tematiche sulle diverse discipline e lezioni aperte alle quali potranno accedere tutti. Naturalmente questo attira qui non solo gli appassionati ma tantissime persone che arrivano da tanti paesi fuori dal nostro, paesi europei ma anche paesi nordamericani e sudamericani. Poi l'evento è dedicato, come possiamo dire, allo sport di moda perché il padel è una scoperta degli ultimi anni, degli ultimi tempi che raccoglie tantissimi sportivi appassionati ha suscitato e sta suscitando anche nella nostra città una grande attenzione. Sappiamo bene che è un settore in grandissima crescita e coinvolge anche tante persone sportive e meno sportive quindi sarebbe sicuramente utile ampliare anche i nostri confini sportivi all'interno della mostra. E' di questi giorni, anzi approfitto per dirlo, anche una manifestazione di interesse che scadrà il 5 dicembre con la quale diamo dei contributi a tutte le associazioni sportive che presentino dei progetti virtuosi per far fare sport gratis a bambini da 6 a 14 che si trovano in situazioni, in condizioni o disagiate dal punto di vista economico o familiare o anche con disabilità. Quindi cerchiamo di far fare sport a tutti, questa è un'iniziativa bellissima per la prima volta a Napoli, ne sono veramente fiera. Grazie a tutti.